bentornato gutier bentornata proseguiamo nella descrizione di windows 10 andiamo ora a visionare la sezione dispositivi del pannello impostazioni cos'è questa sezione ti permette di visionare gestire aggiungere periferiche oppure effettuare il controllo ortografico gestire l'autoplay per i supporti memorie di massa ai dispositivi ed infine gestire gli avvisi per le connessioni dei dispositivi usb come accedi naturalmente dal pulsante start individui l'icona ingranaggio e dalla nuova finestra vai a cliccare sul pulsante dispositivi nella nuova finestra noterai alcune altre sezioni stampanti e scanner dispositivi collegati mouse e touchpad digitazione autoplay e appunto usb cliccando sulla prima sezione visionerai la lista delle stampanti reali o virtuali presenti oltre ad eventuali scanner collegati al tuo pc col pulsante aggiungi stampante o scanner potrai aggiungere e quindi installare i driver di un nuovo dispositivo troverai anche due cursori il primo ti consentirà di lasciare che windows selezioni la stampante predefinita in base all'utilizzo l'ultimo recente se ad esempio avessi più stampante il secondo invece inibisce o meno il download dei driver e software collegati al dispositivo in presenza di una connessione a consumo lascerei questi cursori entrambi disattivati il pulsante dispositivo e stampanti ti rimanda alla pagina che evidenzia le icone dei dispositivi principali che sono collegati al tuo pc e con cui puoi interagire qui una lista dei dispositivi collegati al mio computer infine il pulsante gestione dispositivi ti rimanda alla sezione narrativa per maggiori informazioni dettagli e aggiornamenti dei driver come è stato evidenziato anche nelle lezioni 111 per windows 7 e rispettivo video tutorial o la lezione 163 e video per windows 8 1 update ti rimando quindi alla consultazione di queste lezioni per maggiori informazioni la seconda sezione dispositivi collegati evidenzia alcune periferiche connesse in maniera più sintetica rispetto alla sezione precedente dispositivi stampanti appena visti nel mio caso ci sono i dispositivi usb collegati e il monitor cliccando sul singolo dispositivo puoi interagire con le varie proprietà impostazioni la sezione successiva ti fa entrare nelle impostazioni del mouse e touchpad nel dettaglio puoi variare le impostazioni di questi dispositivi in quelli che più sono consoni alla tua esperienza d'uso il pulsante principale se sei destro un mancino quante righe la pagina scorre in orizzontale o verticale il testo oppure la pagina rotando la rotellina del mouse la velocità del doppio clic la forma e le caratteristiche di visibilità del puntatore e altre opzioni la sezione digitazione presenta dei cursori utili se vorrei correggere automaticamente gli errori di ortografia del testo oppure semplicemente evidenziarli tramite questi cursori gestirai appunto queste impostazioni la sezione autoplay permette di scegliere se attivare o meno la funzione di apertura di una finestra o di avvio di determinati programmi quando si collega un dispositivo usb o si inserisce un disco o una scheda nei rispettivi lettori inoltre potrai decidere tramite due menu a tendina sul tipo di azione da eseguire per gli stessi come aprire ad esempio esplora file chiedere conferma sul da farsi configurare le unità per impostazioni di archivazione o backup impostare elementi multipediali riprodurre dei video e altre opzioni col pulsante impostazioni app predefinite entri nella sezione delle impostazioni delle applicazioni predefinite come spiegato già nella lezione 181 rispettivo video tutorial infine l'ultima sezione usb ti notifica se si verificano dei problemi quando un dispositivo usb è collegato e sempre che sia attivo il cursore relativo guter ecco la classica zona pratica andiamo sul pulsante start individuiamo l'icona ingranaggio clicchiamoci sopra e dopo di che clicchiamo sul pulsante dispositivi in questa sezione c'è il pulsante aggiungi stampante o uno scanner il sistema operativo eseguirà una ricerca qualora non trovasse alcuna stampante te lo notificherà potrai cliccarci sopra ed aggiungere una stampante manualmente che può trovarsi all'interno di una rete che avrai creato o che creerai oppure connessa tramite wireless quindi dovrai eseguire una procedura guidata che ti permetterà di individuare il tipo di stampante o in base al nome o altri protocolli di trasmissione e quindi potrai inserire questa nuova stampante alla lista di quelle già presenti qualora non lo fosse sulle icone che sono rappresentate in questa sezione puoi cliccarci sopra e poi gestire alcuni parametri o rimuovere la stessa periferica nella gestione ovviamente entrerai nella zona di configurazione della proprietà che sarà specifica naturalmente di volta in volta in base al tipo di stampante marca e modello che avrai installato comunque potrai andare ad individuare e selezionare alcune caratteristiche dedicate per la stampante come il cambio di porta o altre caratteristiche dello spool di stampa gestione colori o parametri di sicurezza o ancor di più andare a gestire le preferenze di stampa in questo caso essendo una stampante virtuale o una certa limitazione qualora fosse una stampante reale potrai impostare e definire certe caratteristiche per la tua stampa se ad esempio stampare sempre a colori oppure in scala di grigio o in bianco e nero o stampare fronte e retro qualora questa tua stampante fosse in grado di fornirti queste caratteristiche oppure nella gestione della qualità dei colori o tipologia di stampa se su cartoncino, foglio fotografico e quant'altro nella sezione in basso trovi due cursori una che permette di gestire la stampante predefinita da Windows ma direi di disattivarlo senz'altro ed eventualmente scaricare o meno se fosse disattivato normalmente non potrai eseguire ciò scaricare o meno driver informazioni oppure applicazioni connesse ai dispositivi sovralencati con il pulsante dispositivi e stampanti entri nella sezione di visualizzazione dei dispositivi attualmente connessi al computer e su ognuno cliccando con il pulsante destro puoi entrare nella zona delle proprietà e quindi visionare alcune caratteristiche dello specifico hardware come in questo caso hai visto in precedenza con il pulsante relativo e quindi potrai visionare le caratteristiche, le proprietà del singolo dispositivo in modo da poter cambiare eventuali impostazioni relative al dispositivo stesso quindi a te la scelta in base alle tue necessità di entrare in questa sezione per poter visionare le caratteristiche e le impostazioni di queste periferiche qui trovi altri pulsanti che ti permetteranno di interagire con il corrispondente hardware che avrai selezionato di volta in volta e avrai l'opportunità anche di aggiungere un dispositivo oppure rimuoverlo dopo averlo selezionato chiudiamo questa sezione andiamo a vedere l'altro pulsante gestione dispositivi che ti rimanda alla visualizzazione delle installazioni di tutti i dispositivi e periferiche collegate con la possibilità di individuare le caratteristiche dello stesso in termini di driver e magari effettuare anche aggiornamenti la sezione dispositivi collegati ti evidenzia in maniera sommaria quanto hai visto in precedenza e anche qui potrai aggiungere il dispositivo qualora non fosse presente in questa sezione quindi avviando una procedura guidata questa è la sezione che abbiamo visto in precedenza altra sotto sezione mouse e touchpad che ti permette di selezionare qual è il pulsante principale del mouse sinistro o destro a seconda che tu sia un mancino o un destro potrai anche decidere di quanto variare lo scroll e quindi lo scivolamento in basso o in alto a destra o a sinistra delle pagine o delle scritte utilizzando la rodellina del mouse qui potrai decidere da questo menu se più riga alla volta oppure una pagina alla volta quindi una schermata alla volta con questo cursore potrai decidere quante righe far scorrere il testo di volta in volta utilizzando appunto la rodellina del mouse sarà a te scegliere come meglio ottimizzare questo parametro tramite questo cursore potrai anche decidere se fa scorrere o meno le finestre inattive al passaggio del mouse qualora tu abbia diverse finestre e quindi diversi programmi aperti contemporaneamente sul desktop potrai anche disattivarlo tramite questo cursore il pulsante opzioni aggiuntive per il mouse ti apre una nuova sezione che ti permette di gestire le caratteristiche del mouse potrai invertire o meno il pulsante secondario primario qualora tu fossi un mancino tramite questo cursore regolare la velocità del doppio clic facendo una prova su questa finestra oppure attivare o disattivare la possibilità di cliccare per il drag and drop quindi per il trascinamento dei file da una sezione o un'altra da una finestra ad un'altra oppure decidere di disattivarlo spostare il file da una sezione o un'altra senza tenere premuto il pulsante del mouse la sezione puntatori ti permette di scegliere in base a un'ampia gamma il tipo di puntatore che andrai a visualizzare abilitare anche o meno l'ombra del puntatore per una miglior visione qualora avessi dei problemi poi tramite questo cursore e questo segno di spunta aumentare la precisione del puntatore ed eventualmente variare la velocità dello stesso sullo schermo al spostamento del mouse con questo segno di spunta puoi ancorare il mouse alla finestra di dialogo qualora ne aprissi una o l'altra potrai visionare anche la traccia del puntatore spostando lo stesso se abiti questo cursore oppure nascondere il cursore durante la digitazione di un testo o ancora mostrare la posizione del puntatore quando si preme il pulsante control qualora fosse nascosto con la sezione rotellina potrai anche qui decidere di selezionare il numero di righe di testo che potrai far scorrere utilizzando appunto la rotellina oppure in orizzontale scegliere il numero di caratteri durante lo scroll la sezione hardware ti dice il tipo di mouse attualmente utilizzato la sottosezione digitazione ti permette di scegliere tramite due cursori se correggere automaticamente gli errori di ortografia oppure semplicemente evidenziarli qualora si presentassero durante la digitazione la sottosezione autoplay ti permette di attivare o disattivare l'autoplay per tutti i supporti e dispositivi una volta selezionato potrai anche decidere un'azione da poter eseguire per le unità rimovibili oppure per l'unità scheda di rimovoria come scegliere di volta in volta oppure avviare un determinato programma oppure esplorare file o mandare semplicemente in riproduzione tramite il lettore multimediare il pulsante impostazioni delle app predefinite ti apre la sezione che già abbiamo visto precedentemente attraverso la quale potrai impostare il tipo di programma che aprirà un determinato file in maniera del tutto automatica l'ultima sottosezione USB se attivi questo cursore o meno ti permette di avvisare qualora si presentassero eventuali problemi una volta che il dispositivo USB è collegato al PC bene nella prossima lezione ancora informazioni su Windows 10 ora come sempre un forte saluto, ciao a presto da Carlo e dalla prossima ciao a presto